Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di martedì con una perturbazione che lambirà il nord-ovest, correnti umide nei quadranti occidentali e a nuvolamenti in aumento al nord e sulla Toscana. Ecco qui la banda nuvolosa che si muoverà da ovest verso est. Nel dettaglio possiamo notare di fatti qualche precipitazione attesa sulla Francia, man mano delle piogge inizieranno a interessare l'estremo nord-ovest. Nel dettaglio ecco l'immagine dell'Italia con questa nuvolosità in accentuazione al nord-ovest, altrove ampie aperture del cielo anche al sud con temperature qui sempre estive. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.